Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video qui su YouTube, oggi andremo a raccontare, a capire i top e i flop di questo Gran Premio al Portogallo, ma prima di partire vi faccio un'escalation di tutti i social nei quali mi potete trovare, mi potete trovare su Instagram, YouTube, TikTok e Twitch, sempre con il nome Formula 1 with Carolina per contenuti inerenti e solamente al mondo della Formula 1. Prima di partire faccio un super mega shout out a Leonardo, Leonardo grazie mille per supportarmi e ora si passa al Gran Premio del Portogallo. Allora, eravamo in Portogallo, a Portimao in una pista un po' particolare, perché vi dico questo? Perché probabilmente invece alla quarta tappa, ovvero questa settimana che arriva, a Barcellona potremmo avere e capire realmente i margini delle macchine, capire i massimi potenziali, perché il circuito di Barcellona è un circuito un po' più tra virgolette standard, invece Portimao con questi salescendi particolari, c'era parecchio vento, pista mista, più salescendi quindi con la pendenza e i carichi, insomma te la devi gestire col setup, era un po' più una variabile. Prima di partire ed andare a vedere i miei top e flop vi voglio dire però che i miei possono essere diversi dai vostri, ci tengo a rivadirlo, il mondo è bello perché vario, ognuno ha la propria idea, quindi vi aspetto nei commenti per sapere i vostri e se magari qualcuno è anche d'accordo con me e con i miei ragionamenti. Quindi partiamo subito con i top, sono tre, io mi armo della mia amata paletta, no in realtà non è amata però vabbè ce l'ho e la usiamo, lo sapete ormai, quindi paletta verde per il primo nome che citerò è un nome di un team e sto parlando dell'Alpine. Perché vi dico Alpine? Perché Alpine questo weekend è stata on fire, possiamo dire che nei primi due gran premi l'abbiamo data un po' persa, l'anno scorso l'Areno ha fatto una buona annata quindi ci aspettavamo come Aston Martin, ma non stiamo parlando di Aston, torniamo ad Alpine, ci aspettavamo una crescita. che non c'è stata, forse non avevano capito la macchina, forse ci sono stati dei problemi un po' anche con la galleria del vento a casa, magari i dati non corrispondevano con la realtà, sta di fatto che erano un po' persi. E quindi questo weekend invece ci sono stati, vi avevo già detto un po' sugli altri social che Esteban con Aportimao andava bene, perché già l'anno scorso lui si vede che ha un film particolare con la pista, che ci potrebbe anche stare, ha fatto molto bene. Ha portato la sua Alpine sesta in qualifica, quindi è partito dalla sesta piazza e hanno concluso settimo lui e ottavo Fernando Alonso. Fernando Alonso che ha detto alcuni aggiornamenti che abbiamo portato hanno funzionato sulla macchina e si vede che la nostra è monoposto in condizioni particolari, dove gli altri magari faticano un po', noi improvvisamente ci risvegliamo. Non è male, però bisogna capire se poi queste condizioni particolari le avremo anche in altre piste, che è un po' più complicato, però non mettiamo le mani avanti, vedremo quello che riusciranno a fare a Barcellona, però vi voglio dire che hanno portato a casa punti importanti nel campionato costruttori, anche perché vi ricordo che già Imola avevano portato a casa punti, perché erano slittati nella zona punti, grazie per sfortuna per lui, per Kimi Raikkonen per la penalità che aveva preso. Quindi dai, piano piano, un Esteban Ocona che mi ha assopito davvero tanto questo weekend, quindi io non posso che dare la bandiera, la paletta verde a tutto il team Alpine. Passando al secondo top di questo Gran Premio al Portimao, tiro sulla paletta e cito il nome di Lando Norris, secondo me in tanti lo metterete nei top o negli MVP, insomma mettetelo come volete. Lando Norris, perché dico Lando? Perché lui è stato il primo degli altri, abbiamo visto a sandwich un po' la Mercedes con la Red Bull, e lui è arrivato quinto, il cavallo trainante del team McLaren, sappiamo che Daniel Ricciardo è un po' in difficoltà perché la macchina la deve capire, quindi a lui e a tutti i piloti che hanno cambiato macchina, io dico diamogli ancora due gare per comprendere al meglio le armi che possono giocarsi. Lando però è costante al momento ed è forse un aspetto sul quale lui dovrà volare, ovvero la costanza, perché l'anno scorso non è tanto stato, Sainz alla fine ha avuto la meglio su di lui, quindi è partito bene perché se non sbagli in Barena ha fatto quarto, Aimo la terzo, qui quinto, quindi sono tanti punti per il team in ottica campionato costruttori, ma vi voglio dire che non so se lo sapevate che Lando Norris al momento, è vero siamo solo alla terza tappa, ma è terzo nel campionato piloti con un Valtteri Bottas dietro di lui, quindi bravo, bravissimo Lando, voglio sapere da voi nei commenti se secondo voi sarà costante però per tutta la stagione. E il terzo pilota che voglio citare nella parte dei top, forse non sarò d'accordo con voi, ma il bello è proprio questo, non citerò Perez anche se ha fatto una bella gara, ma voglio dare una paletta di incoraggiamento verde a Mick Schumacher. Perché vi dico Mick? Perché allora mi sta stupendo in positivo, non so se è lui che mi stupisce o è Mazepin po' che mi delude, perché io ho seguito la Formula 2 e Mick Schumacher è uno pilota che ha bisogno di tempo, di solito due anni per trovarsi nella bolla perfetta. E invece innanzitutto sta davanti al compagno di squadra e Mazepin non è uno che va piano, ora è un po' aggressivo, deve un attimo trovare la maturità in sé e stare calmo forse, però non parliamo di Mazepin, torniamo a Mick. Mick è che è sempre davanti al compagno di squadra, quindi già lì porta a casa una bella soddisfazione personale. Il numero due questo weekend è stato davanti alla Tifi, uno dice vabbè davanti alla Tifi, chi se ne frega? No ragazzi, perché l'Ass al momento non è competitiva come la Williams, la Williams ha un altro passo, ha un altro motore e ha un altro consapevolezza dell'avano posto, diciamo già dall'anno scorso che hanno fatto Ninni, quest'anno stanno facendo nettamente meglio. Quindi stare davanti alla Tifi è tanta roba, ha dato tra l'altro a Mazepin Mick se non sbaglio un minuto, quindi vabbè, male per Mazepin. Mick, che ve l'ho detto tante volte, è vero che guida un Ass, ma per lui è una grande opportunità guidare un Ass, perché fai esperienza, non ti stai giocando nulla, quindi la pressione c'è ma è una pressione relativa, perché comunque sei in fondo griglia. Fai chilometri, conosci la macchina, sbagli, puoi sbagliare quest'anno perché sei un rookie e non hai nulla da perdere, quindi ti fai davvero le ossa e le spalle larghe, questo sarà molto positivo per lui questo anno. E poi vi dico una cosa, che puoi anche guidare una macchina non competitiva, lo vediamo da Rasse, ma se tu hai un talento vai oltre la macchina. Quindi secondo me Mick forse da metà stagione in poi potrà andare davvero oltre questa Ass e sono molto felice per lui, per quindi alzo, per quindi alzo la paletta verde. Allora passiamo invece alla zona d'ombra, la negatività che arriva, no dai a parte gli scherzi, passiamo però alla paletta rossa per i flop di questo Gran Premio a Portogallo. Purtroppo il primo flop mio, che ve lo spiego in velo motivo, è Ferrari. Perché vi dico Ferrari? La Ferrari arrivava a Portimao, non dico come una delle favorite perché no, però sicuramente in una pista pro alla loro monoposto. Vi ricordo già l'anno scorso che Carlos Sainz, Charles Leclerc, aveva fatto molto bene, e ricordiamo però la monoposto dell'anno scorso che era una monoposto quasi un pandino, un classico pandino della nonna. Quindi uno dice, beh cavolo arrivano a Portimao, quest'anno la macchina c'è, il motore c'è, dai possono fare molto bene. Allora, partiamo dalle qualifiche. Charles ha pocciato, non è stato perfetto, ha pocciato, tant'è che è partito dietro a Carlos Sainz. Carlos Sainz invece parte in quinta posizione. Tanta roba per lui, riesce davvero, uno parte con le soft, l'altro parte con le gialle, però Sainz riesce a mettere il famoso giro perfetto a punto. Problema della domenica. Allora mi dico, ma se sapete che la domenica fa più caldo, l'asfalto 40 gradi, avevano detto più o meno, perché, e sapete i vostri problemi con l'usura delle gomme che si erano già visti in barena ai test, quindi non è che è un argomento nuovo per la scuderia italiana, perché mi buttate tutto sulle medie? Hanno avuto dei grossi problemi. L'usura degli stint con le medie, con le famose gomme gialle, ha avuto dei problemi, non solo su Char in partenza, ma anche su Carlos Sainz quando ha cambiato dalla soft alla media, tant'è che in quel lasso, nel secondo stint, ha perso tantissimo ed è stato superato praticamente da tutti, finendo alla fine neanche in zona punti. Quindi io mi dico, sapete le condizioni perché rischiare così tanto? Andate verso una scelta un po' più conservativa, buttatevi sulle bianche, insomma, pensate a qualcosa di diverso, ma non andate verso il vostro limite così a braccio aperto della serie andiamo a fare due passi. Anche no, anche perché vi ho detto, ora ci stiamo avvicinando all'estate, quindi questo fatto delle temperature alte, dell'usura gomme, sarà sempre qui alla Ferrari, lo devono gestire e lo devono conoscere, gestire e risolvere. Questo è proprio il pacchetto perfetto per risolvere il problema dell'usura gomme che già avevamo visto in partenza. Detto tutto ciò, però hanno anche sbagliato pensando di andare a fare un undercut con Sainz a Lando, un po' troppo aggressivi, la McCray era davvero quel passo in più, sarebbe stato meglio forse difendersi piuttosto che attaccare, vabbè col senno del più e col senno del più, ma non si fa nulla, noi parliamo dalla, io parlo da camera mia, loro parlano dal muretto sicuramente, live è molto più complicato prendere delle decisioni, però mi dispiace perché alla fine del weekend non hanno concretizzato come dovevano ed è sempre molto importante, vi farò una testa così durante tutta la stagione ragazzi, perché la McLaren è in bagarre netta con la Ferrari, la Ferrari che l'anno scorso ha chiuso sesta e quest'anno può puntare al terzo, non è facile perché McLaren secondo me ha qualcosa in più, con anche il motore Mercedes, con una aerodinamicità che già c'era l'anno scorso, magari Ferrari invece arriva da una stagione molto negativa, quindi gli step in avanti sono tosti da fare, sono tanti, però questa volta non hanno avuto i punti di Sainz, quindi hanno preso solo i punti di Charles Leclerc, e io me lo sono scritta perché vi voglio dire la differenza, McLaren ha 53 punti, mentre attualmente Ferrari ne ha 42, e devono anche ragionare in quest'ottica campionato costruttori, che è molto 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 importante. Quindi ripeto, per quanto riguarda Barcellona, devono cercare di essere costanti dall'inizio alla fine, e di ottimizzare i risultati che poi comunque Ferrari poteva avere davvero, e fare le strategie giuste, perché le strategie in Formula 1, nella Formula 1 moderna, sono molto importanti. La mia seconda paletta rossa va, l'alziamo, e va a Kimi Raikkonen. Perché ho scelto Kimi? Ho scelto Kimi perché, vabbè, out, l'abbiamo visto, con il contatto di Giovinazzi, però partiamo dalle qualifiche. Ha preso la paga dal compagno di squadra, e sono felice per Giovinazzi perché deve stare davanti al suo teammate. In questo caso Kimi Iceman. Gara. Cioè, proprio una safety così lampo dopo due, tre giri, perché non ha calcolato, errore stupido da parte di Raikkonen, non ha calcolato, forse aveva il vento dalla sua, che l'ha spinto ancora di più, comunque ha, da virgolette, tamponato il suo compagno di squadra. Ha completamente rotto l'ala anteriore. Per fortuna Giovinazzi non ha avuto problemi alla gomma toccata, ma si è dovuto ritirare Kimi. E, vabbè, male per lui, ma male anche per Alfa Romeo, che ancora questa volta porta a casa zero punti. Ed è un problema, nel senso che l'Alfa per me era parcè. A inizio stagione poteva avere davvero delle possibilità, e ce l'ha ancora perché siamo ancora a inizio stagione, però muso cambiato, motore Ferrari, abbiamo detto, ok, occhio all'Alfa, quest'anno può andare meglio dell'anno scorso. Però, una volta la sfortuna delle strategie, e una volta la sfortuna di qualsiasi cosa, e la penalità è qui e là, sta di fatto che se pocci tutte le gare, non porta a casa nulla. Quindi io boccio Raikkonen, perché lui, come campione del mondo, deve cercare di portare punti alla squadra, ma bocciamo un po' in generale l'Alfa, salvo Giovinazzi, ma la boccio l'Alfa in questo momento, perché non sta facendo quello che dovrebbe fare. Passiamo invece al terzo pilota, passiamo invece al terzo pilota che io boccio questo weekend. Non metto danni al Ricciardo, perché vi ho detto anche prima, diamogli tempo ancora un attimino, ma devo dire, Valtteri, bottas, ho detto anche bottassa, qui sul mio canale YouTube. Devo dire, Valtteri, amici, Valtteri ormai è una costante di questi video, però lo devo inserire purtroppo, perché vi dico purtroppo? Allora, l'unica gioia del weekend è il giro veloce, che se ne fa davvero poco dal momento in cui lui non è neanche purtroppo quest'anno in bagarre con Lewis Hamilton, perché al momento Valtteri Bottas è quarto nel campionato pilota, quindi dietro Lando Norris, e ha una Mercedes, lo ribadiamo. Io non voglio essere cattiva con Bottas, però, cavolo, la realtà è dura da digerire, ed è completamente sverniciato weekend dopo weekend da Lewis Hamilton. io non ho sempre detto che in Formula 1 ci sono fuori classe, ci sono talenti, ci sono bravi piloti, ecco, Bottas per me è un bravo pilota, ma non è uno che ti fa la differenza. Analizziamo. Bravo che prende la pole, quindi ho detto, ok, dopo quello che è successo a Imola, arriva, prende la pole, anche perché Bottas potrebbe avere un sedile, anzi, molto probabilmente un sedile che partirà, e prenderà Russell, una futura Mercedes del 2022, quindi lui deve cercare di dare proprio push, push, push. Prende la pole, e ha detto, wow, poi mi sono detta, occhio, perché lui quando prende la pole, poche volte poi la mantiene durante la gara, quella posizione in prima linea, quindi, vabbè, fa la partenza, la fa bella, di solito lui nella partenza non è un mito. Ho detto, ok, dai, e alla fine però, parte primo, finisce terzo. Viene sorpassato da Hamilton, sverniciato come se non ci fosse un domani, è vero sì, ha avuto problemi alle temperature con il motore, ma onestamente poco importa, non ha avuto né fame, quella fame proprio che ti porta avanti a vincere dei titoli, né l'aggressività, né un po' di pelo, sapete quando dici, è un pelota con del pelo, quando Max l'ha superato, cioè l'ha lasciato passare come se fosse buon amico d'infanzia, no, non mi è piaciuto, team radio ancora una volta di Toto Wolf, che è il tuo manager, e ti stimola come se fosse il tuo padre, anche no, perché vi dico anche no? Perché cavolo, ogni volta che ci sono dei team radio di Toto Wolf a Bottas, lui non fa la differenza alla fine della fiera, io ve lo dico sempre, vi ricordate Monza 2019, quando c'era Bottas, perché Hamilton aveva finito le gomme, Bottas che ovviamente, Hamilton fa passare Bottas, Bottas deve andare a prendere Charles Clerc, per togliere la vittoria a Monza, Toto Wolf gli dice questa è la tua vittoria, poi lui inizia a fare degli errori, tant'è che Char, probabilmente quando ha visto Bottas, ha tirato il suo spiro di sollievo, no, 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 non vedo in Bottas proprio un ipotetico erede di Hamilton, un ipotetico davvero avversario, ai tempi di Rosberg, di Lewis Hamilton, perché, poccia, cioè quando deve fare la differenza non la fa, quando deve tirar fuori, insomma, diciamo il pelo per non dire altro, non lo fa, e sta fa, non lo considero uno scudiero, però, lo devo bocciare, perché, ora, Perez l'hanno usato come cavia, ma lo voglio vedere poi la bagarre tra Bottas e Perez, tra i secondi per portare punti al team nel campionato costruttori, quindi, no, non benissimo per Valtri Bottas, allora ragazzi, questa è stata tutta la mia escalation di questo Gran Premio al Portogallo, vi aspetto nei commenti per sapere i vostri top e i vostri flop, per vedere anche se qualcuno è d'accordo con me, super carichi, perché tra poco siamo a Barcellona, e a Barcellona, ripeto, forse vedremo davvero una panoramica più completa di quello che possiamo aspettarci dai piloti, ma soprattutto da quelle fantastiche monoposto, io vi ringrazio, se volete lasciare un pollice in su, se volete iscrivervi al canale, siete i benvenuti, grazie mille per tutto il sostegno, vi aspetto qui su YouTube e su tutti gli altri social, ciao!